Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera all'almanacco italiano dal 1762, lunedì 5 novembre. Ariete, in questo lunedì potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino, che procedendo a passo duomo non vi sarà difficile aggirare. Per voi amanti dell'alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite che però va rispettato. Toro, la luna vi addolcisce e vi mette in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle solite cose di ogni giorno sarà piacevole e gratificante. Inoltre, alcune interessanti novità arricchiranno la vostra esperienza in campo professionale. Gemelli, qualche questione di ordine burocratico o fiscale vi costregge ad ingaranare la retromarcia e a rivedere i vostri programmi per la giornata. Attenti a non lasciarvi sopraffare dagli eventi, cercate di gestirli con maturità e senso pratico. Cancro, il ventaglio delle ipotesi si restringe, ma per la soluzione di quello che vi sta davvero a cuore avreste bisogno dell'aiuto di qualcuno. Non aspettatevi troppo dall'amore di questi tempi. Venere non vi è amica, meglio non buttarla al romantico. Leone, grazie alle favorevoli congiunture astrali siete estroversi e espansivi e ottenete consensi dagli altri, sia nel pubblico sia nel privato. Il vostro entusiasmo a volte è un po' esagerato, ma così è autentico che anche gli eccessi vi sono perdonati. Vergine di fronte ad eventuali contrattempi, cercate di cavarvela da soli, senza chiedere consigli a chi vi confonderebbe ulteriormente. La mancanza di concentrazione per voi rappresenta un vero ostacolo, verificate i conti più volte. Bilancia, in teoria col partner viaggiate sulla stessa lunghezza d'onda, ma sul piano concreto la vostra intesa si infrange davanti alle difficoltà. Nel sociale il vostro impegno sta dando ottimi risultati e la vostra immagine ne risente positivamente. Scorpione, questa luna cancerina non può farvi che del bene, poiché quietando le vostre ansie vi fa sentire in pace con voi stessi e con il mondo. Un piccolo dono servirà a farvi perdonare eventuali marachelle e a ricompensare la dolcezza del partner. Sagittario, i vostri traguardi più ambiziosi non sono così lontani come credete. L'importante è procedere con metodo e sfruttare l'esperienza del passato. Le stelle illuminano il settore professionale e vi stimolano a mostrare la vostra competenza. Capricorno, con la luna ancora disarmonica vi sentite fuori fase. Gli altri sembrano non accorgersene e vi soffocano con richieste a dir poco eccessive. Una giornata no è un diritto di tutti e potreste farlo garbatamente notare a chi non ve lo riconosce. Acquario, tra rete e arricchimento e spunti di riflessione dalle esperienze che vi accadranno. L'attività trova un canale privilegiato nei rapporti di amicizia. Complicità e spirito di collaborazione alleggeriscono il carico e bioacizzano l'ambiente di lavoro. Pesci con la luna in un segno d'acqua siete nel vostro elemento. Emozioni e sensazioni si risvegliano e i timori si stemperano in un bagno di dolcezza. Sommergete il partner di attenzione e di premure chiudendo un occhio su certi suoi difetti. M-I-M-I-N-I-A. M-I-M-I-N-I-N-I-I-N-I-N-I-O-C. Grazie a tutti